Il dottor Angelo Cefalo, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra a La Terza. Sindaco, lei impronterà in caso di vittoria il suo operato amministrativo attraverso un contatto diretto con la collettività, attraverso una politica dell'ascolto per affrontare insieme i problemi del territorio. La mia formazione professionale mi ha sempre dato questo, io il paziente sono abituato a toccarlo, prima di dare una terapia a una persona io la tocco, la visito. La famosa clinica che oggi si è persa. Ovviamente utilizzando anche attrezzature all'avanguardia con un ecografo, con una fast, un eco fast, riesco a fare delle diagnosi molto immediate. La stessa cosa io farò con i cittadini di La Terza. La mia presenza sarà assicurata 24 ore su 24, da me e dalla mia giunta che faremo, e da tutti i ragazzi che oggi sono presenti nella mia coalizione. Il gruppo non si perderà, il gruppo darà un seguito a quello che sarà l'organizzazione della macchina comunale. Quindi il sindaco garantisce la presenza tra i cittadini, abbracciandogli e stringendogli la mano. Covid ovviamente permettendo. Sarà una simbiosi, faremo una simbiosi come dicevo ai ragazzi, una simbiosi prima di tutto con la macchina comunale, cioè tutti i lavoratori del comune formeranno un gruppo attivo, attivo con i cittadini e con la massima umiltà, con la massima educazione, la macchina comunale andrà avanti creando delle opere che serviranno ai cittadini, che serviranno ai paesi limitrovi, che serviranno a tutta la regione e a tutta l'Italia. Il mio obiettivo è quello di far crescere la terza stando insieme ai cittadini. I cittadini saranno messi al primo posto, i cittadini saranno quelle persone che verranno a raccontare al sindaco le problematiche della cittadinanza. Insieme ai cittadini i problemi saranno risolti.